Buongiorno a tutti, ricominciano a succedere strane cose a Palermo, lo sapete se avete letto Repubblica, perché è l'unico giornale credo che se ne sia occupato, o se avete letto il blog di Grillo, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Carlo Vizzini, Forza Italia, è indagato per una brutta storia, presunta naturalmente, infatti è soltanto indagato per il momento, di riciclaggio del denaro della famiglia Ciancimino, del vecchio sindaco mafioso legato al clan dei Corleonesi di Palermo, quel Ciancimino che poi gestì la trattativa insieme a due ufficiali del ROS durante le stragi, dopo le stragi, fino al giorno della cattura di Riina, della mancata perquisizione del covo di Riina, chi segue i nostri blog e le nostre attività di questo sicuramente qualcosa ricorda. Mentre la Procura di Palermo è impegnata in questa indagine, che non è un'indagine nuova, semplicemente i magistrati hanno aperto qualche armadio, rimasto chiuso sotto la vecchia gestione del vecchio Procuratore Grasso e hanno scoperto che c'erano delle interessantissime notizie di reato, intercettazioni e altro, che non erano mai state valorizzate o trascritte, dalle quali tra l'altro risultavano questi rapporti d'affari tra il clan Ciancimino e alcuni politici, tra i quali Bizzini che è uno dei più importanti uomini di Forza Italia ed era anche uno dei più presentabili, insieme a Peter Gomez l'avevamo inserito nel libro Se li conosci lieviti, tra gli esempi virtuosi, è vero che in Forza Italia per trovare un virtuoso ad alto livello bisogna andare con il lanternino, però aveva fatto una proposta molto importante in Commissione antimafia, quella per monitorare le candidature ed escludere gli indagati, adesso vedremo se quella regola che aveva proposto per gli altri vale anche per lui. Perché ho detto questo? Non perché voglia parlare di questa indagine, perché non è il caso di fare le indagini o di anticiparle, poi non so nulla di queste indagini, per fortuna i magistrati tengono bene il segreto quando non ci sono deviazioni come quelle che abbiamo visto a Catanzaro dove c'erano fughe di notizie istituzionali, ma ne parlavo perché, proprio in questo momento in cui la Procura è indagata su questi rapporti fra la politica, Ciancimino ed è impegnata a riscontrare le clamorose dichiarazioni del figlio di Ciancimino sul papello di Riina e su tutto quello che ruota intorno, il papello è un po' la carta fondante della Seconda Repubblica, per chi ha studiato la storia e non l'ha dimenticata, dal 1992 a oggi. Mentre la Procura sta facendo tutto questo, parte a freddo un attacco politico mediatico al Procuratore Capo di Palermo, Francesco Messinè, una persona molto riservata, poco appariscente, non l'avete credo mai visto in televisione, è un magistrato vecchio stampo, conservatore che lascia lavorare i suoi colleghi e i suoi pubblici ministeri e ha riportato la concordia in una Procura che ai tempi di Grasso era spaccata a metà e ha riportato soprattutto quel principio della circolazione delle informazioni che è il principio base sul quale nacque il pool antimafia di Falcone e di Borsellino. Questo Procuratore, da molti dipinto come un vecchio conservatore che non vuole noie, ha avuto il coraggio di andare in aula davanti al GIP di Palermo due anni fa, appena insediato, per chiedere al GIP di revocare l'ordinanza con cui aveva disposto la distruzione delle famose telefonate fra Cuffaro e Berlusconi, telefonate che la Procura del Procuratore Grasso aveva pensato di far distruggere, aveva chiesto di distruggere ritenendoli irrilevanti, erano le telefonate in cui Berlusconi diceva di avere parlato col Ministro Pisano, Ministro dell'Interno, a proposito dei processi a Cuffaro e che quindi c'era da stare tranquillissimi e nessuno ha mai capito a quale titolo il Presidente del Consiglio dell'epoca, siamo nel 2004, parlava in piena indagine Cuffaro con il Ministro dell'Interno e poi avvertiva Cuffaro e dato che l'inchiesta sulle talpe della Procura di Palermo che poi ha portato al processo a Cuffaro, a Daiello, al maresciallo Ciuro, al maresciallo Riolo, a Borzacchelli, a tutti gli altri, anche qua chi ha letto un po' dei nostri libri un'idea se l'è fatta, si era sempre dovuta fermare di fronte all'ultima fonte, cioè all'ultima fonte che conosceva in anticipo le mosse degli inquirenti e che quindi avvertiva una volta Aiello, una volta addirittura il boss di Brancaccio Guttadauro su dove erano piazzate le cimici e su quando bisognava parlare al telefono e quando no. Quest'ultima fonte i magistrati l'avevano sempre individuata in una fonte romana che però non aveva mai avuto un nome e un volto. Forse quelle telefonate tra Cuffaro e Berlusconi dove si parlava di un giro di informazioni non proprio regolare, visto che erano tutte notizie coperte dal segreto, poteva far luce, ma invece di svilupparle il procuratore Grasso chiese di distruggerle. Quando poi arrivò Messineo andò in aula e chiese di revocare l'ordine di distruzione, purtroppo non si poteva più farci nulla e quindi quelle bobine piuttosto preziose, secondo me furono distrutte e nel frattempo Grasso diventò procuratore nazionale antimafia, anzi gli fecero una legge apposta per levargli di mezzo il suo concorrente più temibile Caselli. Bene, oggi se voi guardate sui giornali, nel mentre che stanno avvenendo queste indagini delicatissime intorno al mondo ciancimino, trattative, mandanti occulti, strage etc., c'è un attacco improvviso a freddo al procuratore Messineo, perché? Per una storia che era già nota due anni fa quando è stato nominato dal CSM a procuratore capo e cioè che suo fratello è sotto processo per truffa a Palermo, la stessa procura di Messineo sta sostenendo l'accusa e sta chiedendo la condanna del fratello del procuratore e perché suo cognato, il fratello di sua moglie, dieci o venti anni fa ha avuto delle indagini perché aveva dei rapporti con un vecchio capo mafia, un tale Bonanno e adesso viene fuori che al figlio di questo Bonanno il cognato del procuratore aveva suggerito tramite la moglie di questo figlio di Bonanno di cambiare aria, visto che questo tizio era piuttosto nervoso e temeva di finire stritolato nelle guerre per bande che si sono scatenate in Cosa Nostra. Dato che non è reato dire a uno di cambiare aria non ci sono indagini nuove, quelle vecchie erano state a suo tempo in una caso archiviate e in un'altra finite in assoluzione, quindi questo fratello della moglie per quanto abbia delle amicizie discutibili non è indagato né per mafia né per altro, il fratello viene processato per truffa alla Regione credo con la Procura che chiede la condanna, che cosa ci possa fare Messineo di quello che fa suo cognato è evidente che è incomprensibile, eppure giornalisti che non hanno mai scritto una riga su certe indulgenze della vecchia Procura che era nei confronti del potere politico, anzi hanno sempre coperto quelle indulgenze, improvvisamente si scatenano contro Messineo e adesso grazie a questo scatenamento prontamente il CSM si sta interessando della vicenda e quindi il centrodestra soprattutto sta cercando di far fuori questo Procuratore che ha il grave torto di avere consentito ai suoi collaboratori di aprire certi cassetti e certi armadi per riscoprire quella stagione di processi sui rapporti mafia-politica che negli ultimi anni sembrava essersi completamente esaurita, perché pare che esistano ancora rapporti fra mafia e politica, questo ve lo voglio dire con una certa certezza. L'altra cosa stravagante che accade a Palermo, diciamo stravagante per non dire di peggio perché anche qua, come dice giustamente l'interessato, c'è da ridere per non piangere, è la perquisizione del ROS nella casa e negli uffici di Gioacchino Genchi, Gioacchino Genchi è un dirigente della Polizia di Stato che da anni era in aspettativa sindacale per poter svolgere a tempo pieno con con la sua società consulenze informatiche e telematiche e telefoniche per decine e decine di procure, anche qui chi segue il blog è abituato a conoscerlo, è inutile presentarlo un'altra volta, l'hanno perquisito per un intero pomeriggio e una parte della notte con tre accuse, tre accuse che sono piuttosto curiose, ecco lo dicevo proprio perché per evitare di usare termini offensivi nei confronti di chi le muove, limitiamoci a dire che sono curiose. Bene, ho qua i due decreti di perquisizione e quindi vorrei esaminarli con voi, anche qui non per fare l'indagine in presa diretta, ci mancherebbe l'indagine, la fa la magistratura ed è giusto così, ma perché voi vi rendiate conto della sproporzione che c'è fra lo scatenamento contro Genchi e le cose che gli vengono contestate. Badate, la sproporzione che c'è anche nel caso in cui le cose che gli vengono contestate fossero vere, poi non sono vere come vedremo, ma anche se fossero vere voi vi rendereste conto che stiamo parlando di fesserie in base alle quali però questo signore è stato trasformato in un mostro e oggi rischia di non lavorare più, perché è ovvio che se tutti i giornali continuano a scrivere che è un mostro sarà difficile che poi qualche magistrato si azzardi ancora a dargli delle consulenze, perché gli ultimi che le hanno date, cioè De Magistris e la Procura di Salerno si sono ritrovati paracadutati e catapultati fuori dai loro uffici e sputtanati a loro volta sulla pubblica piazza. La prima contestazione che c'è nel decreto di perquisizione, voi lo trovate sul nostro blog voglioscendere.it, sono due i decreti di perquisizione perché sono due i procedimenti a carico di Genchi alla Procura di Roma, che non si vede bene che cosa centri tra l'altro la Procura di Roma, visto che Genchi abita e lavora a Palermo e qui è accusato di avere fatto delle cose nella sua qualità di consulente della Procura di Marsala, che è in provincia di Trapani, non di Roma e della Procura di Catanzaro, che è in provincia di Catanzaro, non di Roma. Non si capisce bene che cosa centri Roma, forse perché Genchi ogni tanto va a Roma a visitare qualche museo, chi lo sa. Scrive la Procura, rilevato che come emerge dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate e in particolare dall'esame del tabulato afferente circa 2.600 interrogazioni all'anagrafe tributaria, effettuate da Genchi Gioacchino, utilizzando l'abilitazione, cioè la password del comune di Mazzara del Vallo, l'indagato avrebbe fatto accesso a tale sistema informatico acquisendo, elaborando e trattando dati ben oltre i termini e le finalità per i quali aveva conseguito l'abilitazione. attese le, a volte anche reiterate, interrogazioni riguardanti soggetti residenti in località diverse e non prossimi a Mazzara del Vallo, quali ad esempio Milano, 13 soggetti, Parma, 16 soggetti, Roma, 14 soggetti, ritenuti quindi sussistenti gravi indizi di reati di qui sopra per avere l'indagato, pur avendo titolo per accedere al sistema, agito per finalità diverse da quelle consentite. Ecco, qui siamo a Marsala, ci sono indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazzara del Vallo che da anni manca all'appello della povera madre, chi l'ha visto se ne è occupata decine di volte. Ebbene Genchi era il consulente della Procura quando c'era il vecchio Procuratore, che è cambiato poi per scadenza nell'ultimo anno. Che cosa fa Genchi naturalmente? Si tracciano i tabulati di tutti i parenti, amici, persone che hanno avuto a che fare con la famiglia perché si brancola nel buio, non ce n'è tabulati per vedere se ci sono rapporti sospetti, se ci sono movimenti sospetti in modo da cercare di trovare questa bambina. È ovvio che una ciliegia tira l'altra e quindi nei tabulati, ogni volta che si trova qualcosa da verificare nei rapporti fra un telefono e altri telefoni, si prendono i tabulati di questi altri telefoni e poi si prendono i tabulati di quelli che sono in comunicazione con quei telefoni, si fanno queste indagini a raggera di cui Genchi ha spiegato molte volte, anche ieri sera alla 7, il sistema. Che senso ha quindi contestargli di avere interpellato l'anagrafe tributaria per identificare delle persone che non abitano a Mazzara del Vallo? Ma voi pensate davvero che per fare un'indagine su un fatto avvenuto a Mazzara del Vallo si debbano controllare soltanto persone residenti a Mazzara del Vallo? E sia strano controllarne 13 a Milano, 16 a Parma e 14 a Roma, qui sembra di essere in un cartone animato, anche di scarso spirito, ma il problema è un altro, il problema è quello della password, perché quando indaga sul caso di Denise Pipitone Genchi scopre che c'è un sistema molto facile per risalire da un nome al suo stato di famiglia, al suo indirizzo, al suo codice fiscale, insomma a quei dati caratteristici che ti danno la certezza che tu stai veramente inseguendo quella persona e non un omonimo e per capire che cosa fa quella persona il sistema infallibile è quello di accedere all'archivio dell'Agenzia delle Entrate della Nagrafe Tributaria e prendere l'indirizzo, lo stato di famiglia e il codice fiscale e allora da quel momento non solo si fa abilitare a entrare nella banca dati della Nagrafe Tributaria dalla procura di Marsala per cui sta indagando su Denise, ma anche da tutte le altre procure per le quali lavora perché è appunto uno strumento di lavoro avere la banca dati della Nagrafe Tributaria e così naturalmente mentre lavora a quell'indagine lavora anche a molte altre, mentre ha acceso il computer ed è entrato nella Nagrafe Tributaria deve controllare le posizioni di 100 persone, una che fa parte di un'indagine che lui sta seguendo a Milano, una che sta seguendo a Parma, una che sta seguendo in Calabria, una che sta seguendo a Catanzaro, una che sta seguendo in Puglia, una che sta seguendo in Sardegna e quella che sta seguendo a Mazzara del Vallo e le fa tutte con la stessa password, mi sembra ovvio, è semplicemente assurdo che uno per accedere a una banca dati cambi password ogni volta che deve accedere per fare un controllo, tanto perde un sacco di tempo, poi che senso ha? L'importante è essere autorizzati dall'autorità giudiziaria a accedere a quella banca dati per fini di giustizia, è certo che se avesse controllato delle persone che interessavano a lui senza autorizzazione sarebbe scorretto, ma lui controllava persone che gli servivano nelle sue indagini per una serie di procure d'Italia e usava una sola password perché quella password aveva per entrare in quel momento, ma era autorizzato da tutte le procure che gli avevano dato la consulenza a utilizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria e questo gli viene contestato come reato di accesso abusivo a sistema informatico e per farlo bisognerebbe che ci fosse un dolo, bisognerebbe che lui avesse la volontà di violare la legge e di fare del male a qualcuno, immaginatevi a chi fa male uno che per controllare un codice fiscale usa una password anziché un'altra, tutta autorizzato tra l'altro, usa la password che gli hanno dato per l'indagine di Marsala per controllare uno che gli interessa per l'indagine di Catanzaro o di Milano, che reato è, che senso ha una cosa di questo genere, ma per questo l'hanno perquisito. Tra l'altro la Procura di Roma dice di averlo perquisito facendo portare via al Ross soltanto le carte relative a Why Not. In realtà Genchi sostiene che gli hanno portato via tutto, gli hanno portato via i file relativi a consulenze che stava facendo per molte altre procure, anche per casi di omicidio, per strage, suoi documenti difensivi e questa è naturalmente la versione di Genchi, poi vedremo chi ha ragione. La cosa simpatica è che a Palermo il Ross era famoso per le sue non perquisizioni, visto che era riuscito a non perquisire il covo di Riina nel 1993, era riuscito a non perquisire quello di Provenzano nel 1996, tant'è che c'è il processo all'ex capo del Ross, il generale Mori per questa ragione, l'abbiamo parlato, stavolta il Ross è riuscito a perquisire casa Genchi, forse è stato l'entusiasmo per essere entrati finalmente a fare una perquisizione che li ha portati a esagerare un po' sulle cose da portare via. Resta da capire come abbia saputo la Procura di Roma che Genchi aveva interpellato l'anagrafe tributaria per posizioni diverse da quelle dell'inchiesta su Denise Pipitone, perché come fanno all'Agenzia delle Entrate a sapere chi sono le persone controllate per l'inchiesta su Denise e chi sono le persone controllate per un'altra indagine? Gli unici che potevano saperlo erano quelli della Procura di Marsala, tant'è che all'inizio Lanza aveva scritto che era stata proprio la Procura di Marsala a denunciare Genchi a Roma, il nuovo Procuratore di Marsala è il famoso Alberto Di Pisa che era un noto nemico di Giovanni Falcone contro il quale disse delle cose molto pesanti davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, era quello che era stato accusato addirittura di aver scritto le lettere anonime del Corvo di Palermo e poi invece era stato assolto in appello. Di Pisa ha smentito, ha detto che non ha fatto nessuna segnalazione e quindi ne dobbiamo prendere atto, anzi l'avevo scritto nel mio blog e raccolgo volentieri la sua rettifica. Resta da spiegare, questi dell'Agenzia delle Entrate, come hanno fatto a sapere che tizio che stava a Parma non era seguito per la inchiesta su Denise ma per le inchieste di Catanzaro o di chissà dove. Boh mistero, in ogni caso resta da capire dove diavolo sia il reato, visto che tutti quegli accessi erano autorizzati dalla Magistratura. Ma andiamo a vedere gli altri due capi di accusa. Gli altri due capi di accusa sono abusi d'ufficio, cioè Genchi che quando diventa consulente di una procura o perito di un tribunale assume le vesti di pubblico ufficiale, intanto è un pubblico ufficiale ufficiale perché è un poliziotto e poi è un pubblico ufficiale perché diventa un consulente e quindi ha l'obbligo di verità, ha l'obbligo di dire la verità e ha l'obbligo di depositare tutto ciò che trova, non soltanto le prove favorevoli all'accusa. In quella veste lui avrebbe abusato del suo ufficio, lavorando nell'inchiesta Why Not insieme a De Magistris, per acquisire illegalmente tabulati di telefoni che appartengono o appartenevano a parlamentari e a esponenti dei servizi segreti. Qua si dice delitto di cui è all'articolo 323, codice penale perché compiù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pensate che roba, nella sua qualità di pubblico ufficiale, quale consulente tecnico del PM di Catanzaro, Dottor Luigi Di Magistris, operando in violazione delle disposizioni di cui etc., etc., e qui si riferisce alla legge Boato, quella che stabilisce che per usare un'intercettazione di un delinquente che parla con un parlamentare, ma anche per acquisire il tabulato del telefono di un parlamentare ci vuole prima la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di Appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazione di membri di Parlamento. E lui invece in barba a questa norma, scrivono i giudici, i PM di Roma, Rossi e Toro, acquisiva, elaborava e trattava illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenze in uso a numerosi parlamentari, intenzionalmente arrecando agli stessi un danno ingiusto, consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di valio e autorizzazione preventivi delle Camere di Appartenenza e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento all'articolo 68 della Costituzione, quindi lui praticamente avrebbe violato l'immunità parlamentare acquisendo tabulati su telefoni di parlamentari che, questa è naturalmente l'ipotesi che fanno i magistrati di Roma, lui già sapeva che quei telefoni erano in uso a parlamentari, altrimenti come farebbe ad avere commesso intenzionalmente un fatto senza volerlo. E poi stessa cosa, altro abuso d'ufficio perché sempre con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente del PM di Catanzaro Luigi De Magistris, acquisiva i tabulati telefonici relativi a utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza, senza il rispetto delle relative procedure con danno per la sicurezza dello Stato. Ecco qui avrebbe addirittura minacciato il segreto di Stato acquisendo tabulati di telefoni che erano usati da uomini e da dirigenti dei servizi segreti, addirittura dall'allora capo del Sismi, il generale Niccolo Pollari, quello che è stato rinviato a giudizio per avere partecipato o favoreggiato il sequestro di persona di Abu Omare che quindi è sotto processo a Milano, molto ben protetto dai politici di destra e di sinistra. Queste sono le due accuse di abuso. Naturalmente presuppongono che Genchi sia lo Spirito Santo e quindi quando chiede alla Timo, alla Wind o alla Vodafone il tabulato di un telefonino, già sappia di chi è quel telefonino, cioè tu hai un numero e tu dal numero capisci, perché sei lo Spirito Santo, che quel numero corrisponde a quella persona. Di solito i comuni mortali per sapere di chi è un numero chiedono il tabulato e poi fanno delle analisi, vedono intanto se è intestato a qualcuno. Di solito è intestato a società o a enti, i parlamentari raramente usano telefoni intestati a sé perché raramente pagano le proprie bollette, quindi di solito ce l'hanno sempre intestati o a qualche ente o a qualche ministero o a qualche ufficio pubblico. Qui si sta parlando del telefonino famoso di Mastella, anche se non l'hanno voluto scrivere. Forse non l'hanno voluto scrivere perché se no avrebbero dovuto ammettere non solo la Procura di Roma di essere incompetente a giudicare su questo caso, ma avrebbe dovuto ammettere che questa indagine è il duplicato esatto di quella che ha appena concluso la Procura di Salerno. La Procura di Salerno si è occupata dell'acquisizione dei tabulati del telefonino in uso a Mastella e ha stabilito che De Magistris non sapeva niente prima di chiedere il tabulato, soltanto dopo era emerso che quel telefono era in uso a Mastella perché in realtà quel telefono era intestato alla Camera dei Deputati e poi al DAP, al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, alla Direzione delle Carceri, mai alla persona di Mastella e che comunque era emerso anche che Mastella i telefoni che aveva in uso lui li passava poi al figlio per esempio che non essendo parlamentare naturalmente non era coperto da nessuna immunità parlamentare. La Procura di Salerno, questo è il problema, ha stabilito dunque che De Magistris quel reato non l'ha commesso e ha chiesto l'archiviazione a Salerno per quel reato che non è stato commesso a Catanzaro. Ora la Procura di Roma cosa fa? Indaga Genchi per avere fatto insieme a De Magistris una cosa che la Procura competente ha già stabilito che non è stata fatta. E allora di Mastella qua non si parla, la cosa interessante è questa, come nasce la faccenda del telefono di Mastella, è molto semplice. Ai primi di aprile del 2007, due anni fa, De Magistris nell'indagine Why Not deve verificare con chi sta scambiando degli SMS Saladino, il capo che sta dall'altra parte e che risponde a quegli SMS e quindi chiedono il tabulato di un telefonino col prefisso 335. Naturalmente il 20 aprile del 2007 cosa succede? Che la Wind comunica comunica il tabulato di quel secondo telefonino, quello che comunica con Saladino e comunica anche che quel tabulato è un'utenza del DAP, del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, quindi può essere di una guardia carceraria, può essere di chiunque, di Mastella nessuno sa niente. Dall'elaborazione di quel tabulato, vedendo poi con chi parla e dove si trova etc., si progredisce ma non si riesce ancora a scoprire che quel tabulato intestato al DAP è di Mastella. Nel mese di maggio del 2007 arrivano anche le informazioni dalla Tim perché quel telefonino, prima di essere volturato alla Wind, era su Tim ed era intestato alla Camera dei Deputati, all'epoca in cui, lo sappiamo adesso, Mastella era parlamentare e non era ancora Ministro. Quindi mai nominativamente quell'utenza è stata intestata a Clemente di Mastella e quindi era assolutamente impossibile attribuirla non soltanto a Mastella ma a un parlamentare e quindi naturalmente questo ha già scoperto la Procura di Salerno, ha già chiesto archiviazione per De Magistris, liberandolo da ogni sospetto e dimostrando che il Ross che sosteneva il contrario e cioè che fin dall'inizio si sapeva e quel telefono era di Mastella, aveva preso una cantonata clamorosa. Procura di Roma che cosa fa? Rifà la stessa indagine contro Genchi e manda lo stesso Ross che ha preso quella cantonata epocale a perquisire Genchi. Se fosse vero che Genchi ha preso un telefono di un parlamentare sapendo che era di un parlamentare, almeno sarebbe reato, ma abbiamo visto che quando ha preso quel tabulato non sapeva che il telefono era di un parlamentare e quindi il reato, se è vero quello che ha scoperto Salerno, non c'è. Invece ancora più bella è la vicenda che riguarda i tabulati degli appartenenti ai servizi segreti, perché? Perché nemmeno se Genchi avesse saputo che quei telefoni erano di appartenenti ai servizi segreti avrebbe commesso un reato acquisendo il tabulato, in quanto l'immunità parlamentare non copre i membri dei servizi segreti, copre dei parlamentari a saperlo prima, ma non copre i membri dei servizi segreti, quindi sia che tu lo sappia che quel telefono è di un membro dei servizi, sia che tu non lo sappia, non cambia nulla, perché? Perché la legge italiana non proibisce di acquisire tabulati di membri dei servizi segreti, dico di più, la legge italiana non impedisce nemmeno di intercettarlo un membro dei servizi segreti, tant'è che nella relazione del COPASIR presieduto da Rutelli, in evidente conflitto di interessi, visto che Rutelli era in rapporti con Saladino e quindi in qualche modo Genchi si stava occupando di lui e adesso è Rutelli che si occupa di Genchi, ma chiusa la parentesi, nella relazione del COPASIR, del Comitato parlamentare per la sicurezza, c'è scritto che c'è una specie di vuoto di legge e che quindi bisogna cambiare la legge per tutelare meglio gli appartenenti ai servizi segreti che oggi possono essere tranquillamente intercettati, nonché può essere acquisito il tabulato dei loro telefonini e dei loro telefoni. D'altra parte, ce lo siamo già detto, è vietato dalla legge per un membro dei servizi segreti parlare di segreti di Stato al telefono, quindi se poi viene intercettato il reatto di violazione del segreto di Stato non l'ha commesso il magistrato che l'ha intercettato, ma l'ha commesso lo spione che non doveva parlare al telefono di un segreto di Stato e invece ne ha parlato. Quindi anche se Genchi avesse saputo e non lo sapeva che certi telefonini erano in uso a esponenti dei servizi segreti, non era vietato dalla legge acquisire quei tabulati e quindi non si capisce dove sia l'abuso d'ufficio nell'acquisire dei tabulati di persone che sono come me e come voi, non hanno nessuna immunità e possono essere controllati nei loro tabulati e addirittura nelle loro telefonate senza alcun limite. Poi è chiaro che a posteriori, quando si scopre che c'è stato un argomento che riguarda il segreto di Stato, allora lo spione può dire che qui c'è segreto di Stato, ma non è che preventivamente tutto quello che fa uno spione è coperto da segreto di Stato, o almeno la legge così non prevede. E quindi come abbiamo visto Genchi è stato perquisito ed è indagato per non aver commesso il fatto. Passate parola. Grazie a tutti.